Pace fatta finalmente tra i Ferragnez, la foto della mano nella mano tra Fedez e Chiara rassicura tutti i followers e mette fine a un periodo davvero no tra i due. Ma finalmente e soprattutto possiamo rivedere Leone e Lavitto in versione Royal Baby, senza davvero nulla togliere al dolcissimo e bellissimo Leo. Lavitto è strepitosa, vestita da regina Elisabetta, le fa anche il verso alzando la mano in segno di saluto. Che dire, fantastici! Grazie a tutti!